Segno 7 rubrica settimanale socio-religiosa in diretta Buonasera a tutti voi telespettatori e bentornati a Segno 7 per questa nuova puntata, la tredicesima della trentatresima edizione. Oggi parliamo di un importante evento che sta vivendo una diocesi di cui questa rubrica è storicamente legata. Mi riferisco al sinodo diocesano della chiesa di Arezzo Cortona Sansepolcro. Negli ultimi anni siamo molto abituati a sentir parlare sempre più spesso del sinodo dei Vescovi, abbiamo sentito parlare del sinodo sulla famiglia, quello sui giovani e abbiamo visto la risonanza che tali eventi hanno avuto anche nei media laici. Stasera per illustrarci l'importanza di un cammino sinodale anche in una chiesa locale sono con noi Massimo Rossi, segretario generale del sinodo, buonasera, e Monsignor Riccardo Fontana, Vescovo di Arezzo Cortona Sansepolcro. Buonasera. Buonasera. Fin da subito mi preme ringraziare la diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro per il materiale filmato che ci ha formato e che manderemo in onda nel corso della puntata. Mi rivolgo subito a Monsignor Fontana con la prima domanda. Cosa è un sinodo e che ruolo hanno i sinodi nella vita e nella storia della chiesa? è un'esperienza bellissima dove che il popolo di Dio sia pensante l'ho sempre creduto, ma fare l'esperienza di partecipazione che abbiamo visto, la nostra gente che si è espressa, che ha studiato, che ha parlato, che è intervenuta. L'ultima congregazione generale in una giornata 122 interventi in aula davanti ai 500 che costituivano il nostro sinodo. È bello, ma soprattutto è bello perché cambia la gente, cambia il rapporto. Fa un laicato partecipante, un laicato coinvolto, non è più come prima. L'idea di rendersi conto che quando sei a rappresentare ciò che il signore chiede dalla chiesa, tutti siamo coinvolti. Una chiesa coinvolta è veramente un dolore di Dio. Ecco, com'è nata in lei la necessità di convocare la propria chiesa in sinodo? Beh, c'è bisogno di riflessione, c'è bisogno di programmazione, c'è bisogno di dialogo. Sono grandi temi. Ora, la chiesa retina è l'ultimo sinodo giuridicamente valido, fu quello del mio predecessore Mignone del 1936. Dopo 83 anni bisognava pure fare qualcosa. E, peraltro, sono successi due grandissimi eventi. Uno della chiesa universale, che è il Concilio Vaticano II. Il secondo evento, direi, per noi importantissimo, San Giovanni Paolo II, ha soppresso tre chiese antiche, creandone una sola. Arezzo, Cortona, Sansepolcro. Direi che questa questa novità ormai sperimentata, vissuta, cercata, ha avuto la necessità di una verifica, la necessità di far diventare un concerto armonico le varie espressioni. La nostra identità, la nostra missione, la nostra voglia di servizio nei confronti di un popolo che è profondamente cambiato, onestamente. La situazione in cui stiamo vivendo è proprio diversa da quella di epoche passate. È bellissimo perché bisogna misurarsi col nuovo. Il Vangelo perenne, da dirlo alla gente del nostro tempo. Ecco, manderei ora in onda il primo servizio che ci descrive la genesi del sinodo e la sua apertura. Prego. È ormai una data storica per la chiesa di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, quella dell'8 aprile del 2018, domenica in Alvis e festa della Divina Misericordia per l'apertura del sinodo diocesano. Ci sono voluti quasi 17 mesi per arrivare a questo giorno. Era infatti il 20 novembre del 2016, quando il vescovo Riccardo Fontana annunciò al popolo di Dio della chiesa di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, al presbiterio, al collegio diaconale, ai religiosi e alle religiose, alle famiglie, a quanti vivono la fede con impegno ecclesiale, il decreto a sua firma con il quale convocava la diocesi a sinodo. Una convocazione è arrivata a conclusione della visita pastorale e dopo una fitta serie di consultazioni per sondarne l'opportunità. Un evento che non si era ancora mai svolto dall'erezione della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, avvenuta nel 1986. C'erano andate separatamente le vecchie diocesi di Arezzo, di Cortona e di Sansepolcro, ma in un'epoca storica lontana a anni luce, prima della Seconda Guerra Mondiale e prima del Concilio Vaticano II, nel 1935, nel 36 e nel 41. Una riflessione partita da lontano, quella di andare a sinodo, che ha visto il favore del Consiglio presbiterale, del Consiglio pastorale diocesano e poi, per acclamazione, il via libera anche nel convegno di Laverna, evento che tradizionalmente avvia l'anno pastorale, svoltosi nel settembre del 2016. Dal giorno della convocazione a quello dell'inaugurazione, avvenuta durante la celebrazione eucaristica dello scorso 15 febbraio, solennità della Madonna del Conforto, da parte del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Gualtiero Bassetti, il sinodo ha avuto un intenso periodo di preparazione con 11 incontri, tenuti da esperti qualificati su varie tematiche. Un periodo nel quale sono stati approfonditi i temi di maggiore attualità per la Chiesa locale, sui quali urge una riflessione comunitaria, un dibattito franco e decisioni condivise. Itinerario culminato con l'elezione dei sinodali, alcuni dei quali dei URE, a causa dei particolari incarichi che ricoprono, altri di nomina Vescovile e per la stragrande maggioranza eletti dalle varie comunità di appartenenza. Si è raggiunto così il numero di 470 persone, in grande maggioranza laici, ma anche presbiteri, diaconi, religiosi e religiose. Un corpus rappresentativo dei vari territori di appartenenza, in una diocesi molto vasta, delle molte realtà associative e dei movimenti, ma anche delle competenze e carismi presenti, cercando di avere particolare attenzione alla rappresentanza giovanile e femminile. Così l'8 di aprile scorso, dopo una messa presieduta dall'arcivescovo, i sinodali hanno lasciato la cattedrale in processione per raggiungere la Basilica di San Domenico, per la prima congregazione generale. A partire da quella data i partecipanti si sono riuniti in 41 gruppi, denominati circoli minori, composti indicativamente da una dozzina di persone, dove è stato analizzato l'instrumentum laboris, uno strumento di lavoro analizzato, discusso e mendato in numerosi incontri, dove ciascuno ha potuto dire la sua, portando il proprio bagaglio di esperienze, sensibilità e vissuto. Giovani e anziani, laici e presbiteri, persone che vivono la fede in differenti comunità, hanno discusso anche animatamente e con passione di tantissimi temi, dal ruolo del laicato nella Chiesa a come vivere più intensamente la preghiera e le liturgie, da come coinvolgere i giovani a come impostare il rapporto tra aggregazioni laicali e istituzioni, ma anche unità pastorali, evangelizzazione e dialogo con i non credenti. Un lavoro protrattosi fino al 29 di giugno scorso, giorno in cui la Chiesa ricorda i Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma e della cristianità. Al termine di una messa in cattedrale, i 470 sinodali si sono recati in processione alla Basilica di San Domenico. I moderatori, ovvero i coordinatori di ciascuno dei 41 circoli minori, ha consegnato nelle mani del vescovo Riccardo Fontana il frutto del lavoro del proprio gruppo. L'arcivescovo ha quindi consegnato queste relazioni ai tre circoli maggiori, composti dai moderatori dei 41 circoli minori. I circoli maggiori hanno provveduto così a sistematizzare le molteplici proposte scaturite dal dibattito nei piccoli gruppi hanno redatto un rapporto conclusivo che è stato così consegnato nelle mani dell'arcivescovo il 7 di agosto per la festa di San Donato, patrono della città di Arezzo e della diocesi. Gli elaborati dei circoli maggiori sono stati la nuova bozza di discussione sulla quale si sono incentrati i lavori della seconda congregazione generale, svoltasi poi a metà settembre. Il sinodo che si è aperto l'8 aprile scorso è il frutto di un lavoro preparatorio che abbiamo sentito è durato più di un anno e mezzo. Questo lavoro preparatorio è stato racchiuso nell'instrumento un laboris su cui i sinodali hanno discusso. Ecco chiederei ai miei ospiti di descriverci questo instrumento un laboris, soprattutto per quanto riguarda le tematiche su cui il sinodo è stato chiamato a riflettere. Se magari Monsignor Fontana ci vuole illustrare un po' lo spirito dell'instrumento un laboris e poi magari Massimo Rossi ce lo può più descrivere, magari più dettagliatamente. L'instrumento un laboris è diviso in tre parti che aggregano i temi di maggiore interesse in questo momento per la nostra Chiesa. In ascolto dell'Evangelii Gaudium, dell'insegnamento di Papa Francesco, con la volontà di declericalizzare l'esperienza di Chiesa e di coinvolgere il laicato. Ma come coinvolgerlo? Intanto una riflessione sull'identità comune. Basta raccontare la storia. Eravamo tre diocesi e l'abbiamo detto per 30 anni e ora bisognerà dire chi siamo per essere pronti a rispondere alle esigenze del tempo presente. Lo si ricava facilmente, ogni Chiesa viene fuori da una storia particolare, ma la definizione di Chiesa ce la dà il Vaticano secondo, è inutile girare gli intorno. Noi certo abbiamo delle componenti che fanno parte della nostra storia comune, una componente innanzitutto come le cinque dita della mano per la carezza di Dio data alla nostra Chiesa. La più antica è la dimensione martiriale, non solo perché il martire donato è il padre della nostra Chiesa, ma perché questa dimensione attraverso i secoli è durata fino al presente. Devo dire che la conferenza episcopale toscana mi ha dato il mandato di avviare il processo super martirio di uno dei nostri sacerdoti, don Alcide Lazzari, prete di Cimitella della Chiana, che fu barbaramente trucidato in odio alla fede. Ma insomma questo cammino dei martiri, poi la nostra terra è terra di monaci, ci abbiamo la presenza ancora attivissima e benedetta di Camaldoli, a cui sono legato con tutto il cuore. Abbiamo avuto i monaci, i benedettini di varie aggregazioni, vorrei dire che è nato nella chiesa retina Monte Oliveto Maggiore, la congregazione olivetana è nata qui in casa nostra, varie altre storie, i monaci cassinesi del monastero delle sante flore Lucilla. Bene, c'è una dimensione ancora più bella di tutte le altre, cara al cuore, noi siamo la chiesa a retina con gli occhi rivolti a Francesco e ai suoi frati. La dimensione francescana è imprescindibile. Questa è la chiesa di Laverna, è la chiesa punteggiata in Valtiberina, ma anche in Arezzo, anche in Cortona, mi piace ricordare le celle di Cortona, una presenza di Francesco di lui stesso e poi una presenza costante come lievito dentro la massa per il rinnovamento costante della nostra chiesa attraverso il tempo. Accanto a questa presenza direi che è francescana, ma è anche dominicana, ma è anche servita, ma è un'esperienza ricca di doni dello spirito all'avvio del rinascimento fu necessario puntare sulla cultura. Allora abbiamo avuto il dono della presenza dei Gesuiti, ma anche di tante altre realtà che hanno moltiplicato nelle varie cittadine del nostro territorio una riflessione, una liberazione del nostro popolo pubblico dalla routine della società agricola verso un pensiero alto con espressioni che sono certamente note, soprattutto le espressioni dell'arte nella nostra comune provincia di Arezzo, dove sono presenti certamente in modo significativo la diocesi di Fiesole oltre a noi, ma anche per alcune piccole identità, è tutto avvicinato, ci è coinvolto in questa storia comune. Ecco, come si fa a fare credibile il Vangelo? Attraverso la carità. E c'è stata una storia di carità incantata, bellissima, sono arrivati da fuori doni dello spirito, ma noi chi siamo? La Chiesa oggi, la Chiesa retina di oggi, cosa vuole? Che cosa propone? Qual è il progetto? Il Papa ci dice chiesa in uscita, noi vogliamo essere all'altezza di questa storia. Direi che guardarsi indietro va bene per giusto riconoscimento del bene ricevuto, ma bisogna passare ai ragazzi, alla gente di oggi, la fede in Gesù, la presenza caritativa di una Chiesa che se non sa esprimersi con la carità è una menzogna. Se noi non abbiamo il coraggio di puntare forte sull'accoglienza, sulla liberazione dal male, sulla cura delle persone più deboli, non siamo la compagnia degli apostoli, ma questo vogliamo fare. Nell'istrumento Un Laboris c'è la missione descritta di evangelizzare e servire, soprattutto la missione di servire, a cui si dedica una parte dell'istrumento Un Laboris. Accanto ai servizi clericali di un tempo ci sono servizi del nostro tempo che sono chiesti dalla gente di oggi. Non possiamo mica far tutto con le tonache dei preti o le mitrie dei vescovi. Cioè, d'altro, nel progetto di Gesù Cristo va già bene se su mille persone c'è un prete e 999 laici, ma vogliamo dar voce al popolo di Dio? Questo è in sintesi l'avvio del Sinodo. Poi, ora stiamo arrivando, vediamo cosa esce fuori dopo tanta discussione. Quindi avete preparato questo documento? Il Sinodo, il Vescovo Riccardo l'ha detto, questo Sinodo è particolare perché per la prima volta, nella storia almeno di questa nostra chiesa diocesana, ma perché è venuto dopo il Concilio Vaticano II, abbiamo un Sinodo diocesano con i laici, perché i sinodi che il Vescovo ricordava si celebravano, ma attorno al Vescovo c'erano essenzialmente i sacerdoti, che sono ovviamente i primi collaboratori del Vescovo e hanno un ruolo importantissimo anche nel nostro Sinodo. Però per la prima volta noi, fra i 500 sinodali, due terzi sono laici e sono espressione delle, quelle che il Vescovo spesso chiama, sono le 900 comunità sparse nel nostro territorio, perché insieme alla preparazione sui testi, la preparazione spirituale, la preghiera, c'è stato anche un movimento organizzativo, perché il Sinodo mette in moto, è una macchina complessa, che al di là dei sinodali ha visto prima ancora le comunità parrocchiali, le zone che hanno preso parte ai momenti di formazione, che poi sono confluiti come contenuti nell'instrumentum laboris, e hanno loro stessi espresso i loro rappresentanti nel Sinodo diocesano, cioè i laici, uomini, donne, giovani, c'è una componente importante anche di infratrentenni che sono presenti nel Sinodo. E questo è un aspetto delicato, perché al di là dei testi che sono stati discussi, e poi quelli che sono in via di definizione, poi di approvazione nella prossima congregazione generale, verosimilmente nel mese di febbraio, c'è una Chiesa che si è manifestata come momento di comunione. Attorno al Vescovo, anche visivamente era bello vedere questi laici e i preti che non stavano in una zona a parte, ma stavano in mezzo al popolo. A significare in qualche modo, e ti sintetizzo l'ultima parte che il Vescovo richiamava, quella del servizio, a dire che i laici non sono i fruitori di un servizio che il Vescovo e i preti rendono in cattedrale e nelle comunità, ma sono chiamati loro, essi stessi, direttamente e in forza del battesimo, perché poi in definitiva basta quello per essere testimoni del Vangelo, ad essere lievito nelle loro comunità e anche nei ministeri istituiti che la Chiesa conosce, che sono tradizionali alla vita della Chiesa, ma soprattutto nella società, dove lavorano, dove vivono e dove esprimono la loro vocazione anche associativa, perché quelle esperienze caritative che il Vescovo richiamava hanno visto la sollecitudine delle esperienze, degli ordini mendicanti, ma anche delle confraternite laicali. Noi siamo particolarmente ricchi di queste esperienze che oggi si incarnano in forme nuove, quindi c'è questo richiamo molto forte alla corresponsabilità che intanto si esprime, si incarna in questa richiesta che poi è la sintesi di che cos'è un sinodo. È il Vescovo che rispetto alle sue funzioni di guidare una Chiesa chiede il consiglio dei suoi sacerdoti, dei religiosi e dei suoi battezzati che sono nella sua comunità e questa è la prima cosa. Ma nel chiedere consiglio gli dice anche guardate che siete protagonisti di questa vita della nostra Chiesa. Ecco, questo è il senso dell'instrumentum laboris e proprio perché viene all'indomani del Concilio Vaticano di questa nostra Chiesa, giovane perché ha 30 anni, è un documento che non si focalizza su alcuni temi in particolare ma tocca tutti gli aspetti che appartengono ai compiti del Vescovo che sono quelli di santificare il suo popolo, di insegnare e di governarlo e ci ha chiesto consiglio essenzialmente su tutto. Poi vedremo come riusciremo a corrispondere a questa fiducia. Il servizio già ci ha spiegato un po' come sta funzionando il sinodo però vorrei sottolineare l'aspetto delle comunità perché mi pare di aver capito che sia un sinodo anche un po' delocalizzato almeno per quanto ha riguardato la parte dei Circula Minores. Diciamo, innanzitutto il cammino che ha condotto al sinodo è nato dalla visita pastorale del Vescovo quindi è un fermento che ormai sono anni che si muove poi è vero che questo è il primo sinodo in senso formale che si celebra nella nostra Chiesa ma ogni anno ci sono le assemblee diocesane che hanno questo spirito sinodale che il Papa va dicendo ormai da diversi anni ma che un po' hanno punteggiato sin dall'inizio anche l'episcopato dell'arcivescovo Riccardo e quindi il cammino di formazione quegli 11 incontri a cui si faceva riferimento riguardavano tutti, riguardavano tutta la diocesi tant'è vero che si tenevano normalmente ad Arezzo ma poi ci si poteva collegare c'erano dei centri d'ascolto attraverso i mezzi di comunicazione anche nelle comunità sul territorio perché la nostra è una diocesi particolarmente vasta e questo dunque è stato un primo aspetto prima di arrivare all'istrumento un laboris poi c'è stata una pubblicazione 50 schede che sono state elaborate da laici e da sacerdoti che dovevano essere un primo distillato di quel percorso di preparazione all'istrumento un laboris e poi le comunità sono state chiamate ad esprimere chi li rappresentasse nella assise sinodale perché abbiamo detto sono 500 i sinodali ma i nostri diocesani sono 360.000 e quindi i consigli pastorali di ciascuna parrocchia di ciascuna aggregazione sono stati chiamati a esprimere con il voto in forma in qualche modo democratica i loro rappresentanti dei componenti di diritto del sinodo alla fine noi avevamo poco più che 50 persone quindi il resto sono espressione delle comunità e questi sinodali nei circoli minori che si sono svolti nelle zone della diocesi non ad Arezzo 41 circoli minori ciascuno lo diceva al servizio di 10-12 persone quindi attorno a un tavolo si svolgevano erano ospitati nelle parrocchie in alcune parrocchie del territorio e i sinodali erano stati invitati a essere portavoce delle loro comunità a discutere dei temi che poi avrebbero di cui avrebbero parlato nei circoli minori all'interno delle proprie comunità delle proprie associazioni delle comunità religiose di appartenenza quindi non si deve guardare soltanto ai 500 che sono stati coinvolti direttamente ma questo movimento che si è messo in moto sin nella estrema periferia della diocesi vorrei tornare a quello che ci ha già raccontato Monsignor Fontana perché all'inizio della prima congregazione generale Monsignor Pescovo ha voluto manifestare e ricordare l'intenzione di proporre l'avvio di un processo di canonizzazione ce l'ha già ricordato ecco perché l'ha voluto ricordare proprio in avvio dei lavori? perché la chiesa innanzitutto è preghiera e testimonianza cioè preghiera e martirio quello cruento di alcuni dei nostri è quello io penso alle difficoltà di tante famiglie certe storie che stanno insieme soltanto per fede dove la chiesa si deve chinare pronta ad accogliere ad aiutare a pregare e far pregare a cominciare da un passaggio della fede che avviene nell'iniziazione cristiana dei fanciulli ma che va tenuta presente in modo forte nella libertà di un dibattito di un noi siamo sicuri che la nostra parte è quella di richiamare alle risorse e alle risorse soprannaturali che il tempo presente sta dimenticando molto spesso abbacinato dall'economia credo che bisognerà ritrovare la dimensione antropologica ricordo ancora con emozione lecce uomo che sotto la cupola di Santa Maria del Fiore questo eccezionale papa ci ha saputo ridire Toscana svegliati perché tocca di qui far ripartire una visione cristiana dell'uomo e noi vogliamo fare la nostra parte tutto lì nel nostro piccolo sapendo di essere una delle 18 realtà diocesiane e di questa terra noi abbiamo una vicenda singolare perché 836 comunità l'autorità civile ci ha certificato abbiamo 246 parrocchie abbiamo se Dio vuole un grande aiuto di tanta gente mi piace ricordare che quando nei mesi di preparazione del sinodo veniva proposto ogni tema è trattato da personaggi preparati molto noti di livello nazionale nell'ambito specifico poi i media sono stati providenziali perché abbiamo avuto tramite i contatti con la televisione abbiamo avuto un numero incredibile di persone che si sono interessate a vedere che succedeva stiamo andando in pubblicità continuiamo dopo mi permetto di interromperla perché parte la pubblicità eccoci di nuovo in studio per questa puntata dedicata al sinodo diocesano della chiesa di Arezzo Cortona a Sansepolcro prima dell'intervallo pubblicitario ho interrotto Monsignor Fontana che ci stava parlando anche dei doni che sono arrivati durante questo cammino sinodale magari riprendiamo il tema dopo avrei ora un'altra domanda nel commento televisivo alla cerimonia di apertura del sinodo si faceva notare come Monsignor Fontana abbia lavorato allacremente è spronato perché il sinodo si aprisse nella domenica in albis nella domenica che da alcuni anni conosciamo come la domenica della divina misericordia ecco che messaggio voleva legare a questa a questa accoppiata apertura e domenica in albis messaggio della misericordia dell'attenzione verso la gente della vicinanza a chi tribola a chi soffre cioè io non voglio un sinodo non ho voluto un sinodo che facesse strutture programmazioni astratte cose cervellotiche bisogna stare come Gesù a mezzo alla gente e credo che questo il segno del risorto e la presenza del Signore sia il nostro compito principale se riusciamo a fare quello il resto ci pensa la divina grazia è un dono dello Spirito Santo il sinodo è un evento una pentecoste della chiesa aretina e bisogna che lo valorizziamo in questa dimensione soprannaturale forte ecco sia appunto quella della pentecoste ha ricordato questo aspetto anche in una delle sue omelie durante le messe delle congregazioni vedo con piacere che sono ascoltato beh mi sono informato però ecco era una riflessione che mi era un'immagine che mi era venuta in mente poi mi dica che sei sbagliata però mi ha colpito questa questa immagine del sinodo che si apre con gli apostoli chiusi dentro dentro il cenacolo perché nella domenica in Albis ancora siamo dentro il cenacolo con Gesù che passa per le porte chiuse e che va verso le porte spalancate degli apostoli che parlano a tutte le genti alla fine sì i segni sono importanti noi aprendo il sinodo siamo andati tutti una chiesa intera la cattedrale gremita siamo scesi per il corso e siamo andati a San Francesco che è il centro geografico della città proprio la voglia di non chiuderci dentro le sagrestie vogliamo stare in mezzo alla gente direi che questo tutto sommato funziona poi il resto essendo una dimensione soprannaturale tocca al Signore e fa il suo credo che noi ci mettiamo il nostro e lui fa il suo mettiamo il nostro e Dio fa sempre il suo e speriamo che i frutti escano copiosi belli a vantaggio avvantaggio dei bambini che mi sono molto cari uno in modo particolare davanti agli occhi sarei quasi tentato di raccontare la storia se posso un giorno di San Donato io ero in mezzo a tutte queste cerimonie queste cose a tutta un sacco di gente ero vestito di rosso insomma quelle cose bisogna farle quando è il giorno giusto e viene un bambino all'epoca aveva 4 anni mi prende l'ho battezzato io è sciolto verso di me mi prende per mano e mi dice esco ma sei stanco ora ho visto che hai fatto tante cose perché non ti vieni a mettere a sedere un po' mi sono messo a sedere sui gradini del Duomo e ci siamo messi a chiacchierare senza renderci conto che la gente ci guardava e coglieva come forse l'apertura verso la generazione nuova è l'obiettivo che io pongo in cima alla fila di tutte le altre cose bisogna pure avere gli occhi avvicini grazie a tutti